La malgagosta. Allora, chi è la malgagosta? Deriva da malgasciona più aragosta, malgagosta. È la malgasciona che ha paura, ha paura di essere abbandonata, di essere lasciata, ha paura che il suo uomo la tradisca, oppure sta in situazioni con persone che assolutamente non gli piacciono. E allora cosa fa? Fa il verso della malgagosta buttata nell'acqua bollente. Gni, io lo amo, gni, io lo amo, ma io lo amerò per sempre, gni. Ecco, questa è la malgagosta. Niente contro, però, cara malgagosta, devi imparare a fottertene, devi imparare a mandare a fanculo tutti quelli che non ti danno quello che tu desideri, quello che tu vuoi. Seguimi su Instagram, Massimo Tomasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ciao a tutti!